È fanese, ha 35 anni ed è salito nell'Olimpo degli Ingegneri rendendo orgogliosa la sua intera città d'origine, Fano. Si chiama Marco Salucci, ricercatore nel gruppo di ricerca Eledia presso l'Università di Trento, nel Dipartimento d'ISI, e da quest'anno può vantare un importante riconoscimento, quello di Associated Editor for Communications and Memberships, un ruolo assegnatogli per la rivista internazionale più importante nel suo settore, ovvero la IEEE Transaction on Antennas and Propagation, edita dalla IEEE Antennas and Propagation Society, una importante e prestigiosa organizzazione mondiale no profit nell'ambito delle nuove tecnologie. Si tratta di un ruolo unico, i Associated Editor ce ne sono tanti, i Associated Editor for Communications and Membership ce n'è uno solo. Lo scopo è quello sostanzialmente di cercare di promuovere le pubblicazioni all'interno della rivista, non soltanto dentro la società ma anche al di fuori, ovvero cercare di colmare questo gap che esiste tra quello che fa la comunità scientifica e i professionisti delle industrie, con quello che poi effettivamente è la percezione anche delle persone che effettivamente poi quelle tecnologie utilizzano ogni giorno. Il mio ruolo sarà anche quello di cercare di inseguire quelli che sono i format più recenti per poter comunicare correttamente e poter dare più ampia visione possibile a tutti i lavori che sono pubblicati sulla rivista, così come andare anche su tutti quelli che sono i canali social. Chiaramente il mio ruolo sarà quello di supervisionare tutto questo processo di rinnovamento da un punto di vista di comunicazione di quello che fa la rivista. Dopo aver frequentato il liceo scientifico Torelli di Fano, si è trasferito a Trento per continuare il suo percorso di studi, acquisendo il dottorato di ricerca nella International Doctoral School in Information and Communication Technology dell'Università di Trento, dove si è stabilito per avviare la sua carriera accademica e dove, se non per una importante parentesi a Parigi, in cui ha trascorso quattro anni di esperienza nei migliori istituti di ricerca francesi, è rimasto a vivere fino ad oggi. Oltre al nuovo ruolo, Salucci è revisore per numerose riviste internazionali edite da IEEE, la prestigiosa organizzazione il cui scopo è quello di favorire la collaborazione e la comunicazione tra comunità scientifiche e mondo produttivo, oltre al promuovere l'eccellenza e l'innovazione tecnologica a beneficio dell'umanità. La IEEE conta l'adesione di oltre 450.000 ricercatori di tutto il mondo e comprende 39 società, tra cui anche quella di cui fa parte Salucci, la Antennas and Propagation. La sua attività di ricerca è principalmente focalizzata su tecniche innovative di diagnosi non invasiva in ambito biomedicale ed industriale, con particolare enfasi alle metodologie basate su intelligenza artificiale per applicazioni del mondo reale. È certamente un sogno nel cassetto che sta iniziando ad avverarsi, ma io mi permetto di dire anche che la strada è ancora lunga, mentre il sogno è diventare, o comunque assumere delle posizioni accademiche successive, diciamo, a quella del ricercatore a tempo determinato, quale sono, questa è una pietra di questo muro, di questa casa che sto pian piano costruendo, cercando di farla più solida possibile, con chiaramente il duro lavoro ogni giorno. Grazie. Grazie a tutti.